buongiorno a tutti sono Mirko Carozzi è con piacere che oggi vi presento il nuovo Vansberg Carabus 600ME Hitation Italia con tetto a soffietto questo van prodotto dal gruppo Knauss Tavert si contraddistingue per l'ottima qualità il bellissimo design e il prezzo competitivo la dinette composta dai classici sedili girevoli è dotata di un tavolo estensibile che permette l'utilizzo sino a quattro persone il design del mobilio è il tiberino e le strutture del mobile sono a corpo unico su tutte le finestre sono situati scuri e zanzariere il blocco cucina è ampio e dotato di un piano basculante per favorire il lavoro del cuoco di turno lavello e piano cottura sono in acciaio inox con vetro di copertura nel cassetto sottostante troviamo lo scarico delle acque chiare i cassetti sono estraibili a scorrimento su cuscinetti a sfere il frigorifero è a compressore ed ha una capacità di 95 litri i letti posteriori definiti gemelli misurano il primo centimetri 200 per 85 secondo 180 per 85 il bagno è ergonomico con ampie superfici d'appoggio e molte possibilità di stivaggio una comoda scala consente l'accesso dal letto situato alla base del tetto a soffietto le pareti sono dotate di un'apertura a cerniera con zanzariere questo offrirà l'opportunità per i più romantici di godersi memorabili panorali la cabina guida ha di serie gli oscuranti remis e adesso non ci resta che abbassare il tetto soffietto e partire l'attra di un'apertura a cerniera